Buongiornissimo a tutti, oggi è il gran giorno, sono le 8.47, io sono pronta, sono vicino al cavallo però non monto ovviamente, però faccio solo per non sporcarmi. Oggi ci sarà l'Alpa Halloween, ovvero la super festa di Halloween con la banda di Lario e il Pony e il Ciucco e niente, adesso è mattina, la festa si farà dalle 3 alle 18 però noi, io e Nina andiamo anche la mattina perché dobbiamo finire di preparare tutto, cioè no tutto, dobbiamo finire di preparare alcune cose. Allora mi ha detto bagnata, vabbè thee tchau! Ci vediamo in maneggio quando arriva anche Nina. Tutto il Solz, c'è da pulite un po' oggi. Guarda anche colorato Così zozzo non si può presentare Questa è una scena Guarda bello questa è una scena Sai che cosa vogliono fare Andiamo a prendere il panchetto e poi da dentro No Damo sei atletico o no Forza sali Vediamo su Vediamo c'ho le prove Lascia 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 Non gli fa male a Nina Dai Io voglio l'insalata Beccata Sì ancora una mora Non dalle mani Siamo pronti Madonna che meraviglia Vediamo un po' Io prendo pistacchio Giulia pesata Una bomba al pistacchio Vai Riformimenti un po' silenzio Anche mangi stinchi Dove mangia stinchi? Eccolo mangia stinchi Fa colazione anche lui Che buono E' sempre in testa Non vale Non vale Non vale Non ce potevi no Ce la faccio dare Quindi mi ha bacino da me Amore Grazie a tutti Eccolo bravi bravo stiamo finendo di sistemare un po di cosi islare colorato con il loro pacchino abbiamo fatto tutto le sedute tonde abbiamo messo un fuocherello in mezzo e tutti sotto sella minis stiamo finendo di mettere tutte le bagnatele questo questo è un minisciutto scella bellissimo e che ore sono le undici e mezzo le undici e mezzo ottimo mi inizia la mette sì anche io no vorrà via anche i picchietti insieme a forse è meglio allora forse è meglio allora facciamo il lancio vediamo se ci arriva cosa combinati siamo pronti ora la soffì casca dentro il recinto così la mangiano pensatevi un po vicino a voi con le orecchie con le antenne da halloween guarda mi sono scarmelato prima ho sgruppato guarda no ma guarda guardali minina scello rosso ma allora ma scusso guardali guardali tazzoi non ci stinchi io voglio la pizza finalmente avete messo il zion da fila voi questo è il divano del ballerino io non è quella questo è il divano che c'erano la fila di essi mazzolta andiamo a vedere questa è la cosa più morbidina le femmine con il cucciolo calma senza far tanto rumore già si va a vedere il cucciolo andiamo tutti insieme allora venite da questa parte senza correre urlare parlando di te bravi 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 questa si chiama bling questa questo è un piano particolare che a loro piace tanto tu puoi assaggiare? tu puoi assaggiare intanto ora vado dentro cerco di qualche affatto che non vuole le accarezziamo prima e poi si lascia noi tu puoi assaggiare? qui? qui? ok buon si ho Opa! Sì! Sì! La! Riesci qualcuno in giudetto? Eh? Se non piove, se no lo fa in caldo! Vedi, eh? Vedi fortissimo, eh? Lei deve salire, invece non vuoi salire! Non vuoi salire? Non vuoi salire? Però c'è nessuno che è piacente! Vicina con me! I dentoni! I dentoni! Questo è il sciucchino di Shrek! Poverino Seno che si pesa! Sì, ma la faccio peserà o mai? Sì! Jenny! Ha cambiato cavallo! Anche la Sofì, eh? Bimba! Da domani monti questo! Vieni, vai, ciao! Presa paura, eh! Quattro! È comodo! Ma che avevo cuore! Sì! Bellina! Vieni, anima! Vieni, vieni! Vieni, anima! Vieni! Vieni, vieni, vieni! Porta la giro! Porta la giro! Arreggetti, eh! Fa la scende! Fa la scende! Faccio scende da ciucco, eh! Adio, va nel lavoro! Va nel lavoro! Va nel lavoro! Va nel lavoro! Spingi, spingi, spingi e ti vieni addosso! Spingi! Ora si è cascata a ciucco! Anima, vieni, guardi, vieni! Ciao, bu! Ciao, bu! Bu! Ilario, spazio! Oh, bu! De magno! Bu! 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 Ciao a tutti, Crash! Ciao, bellissimi! Ciao! 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 Ecco! Ora si è appoggiato! Ma... Senta tu, bravino! Momento dolcetto scherzetto! Aspetta, capete! Quanto ne volete? Una! Cramelle? Cosa c'è lì dentro? Qualcosa di costruoso? Costruose! Ragazzi, questa è stata una prima occasione per conoscere la banda di Ilario, però mi raccomando andate a seguire su Instagram la pagina azienda agricola anima grande per non perdervi tutte le occasioni nuove che avrete di conoscere la banda di Ilario. In primavera verranno organizzati tantissimi nuovi eventi alpacosi da non perdere! Spero che questo vlog della super giornata alpacosa vi sia piaciuto! Mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella come al solito e noi ci vediamo nel prossimo video! Ciao ciao! 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 Grazie a tutti.